Due gravi episodi di aggressione sono avvenuti nel centro storico di Marsala, coinvolgendo due sorelle minorenni di 15 e 16 anni. Le ragazze, figlio di un sotto ufficiale dell'aeronautica militare, sono state vittime di minacce e spintoni da due coetanee, di cui una non ancora ha 14enne. Il padre delle ragazze ha prontamente denunciato l'aggressione alle autorità competenti. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 29 dicembre nei pressi della chiesa madre di Marsala, lungo la via a Cammarelli Scurti. Le due sorelle sono state avvicinate da due ragazze di 13 e 14 anni, accompagnate da un ragazzo. Proprio quest'ultimo, secondo quanto raccontato dalle vittime, ha iniziato l'aggressione insultando e spingendo una delle due sorelle. Successivamente la tredicenne ha anche cercato di afferlarla per il collo e spingendola le avrebbe minacciato di morte, dicendo cerca di finirla, io ti ammazzo. Le due ragazze si sono rifugiate all'interno del magazzino OVS, ma anche lì sono state raggiunte minacciate. Sembra che alla base dell'aggressione ci siano motivi di gelosia, poiché l'episodio rappresenta l'epilogo di circa due mesi di minacce subite da una delle due vittime. L'avvocato Vincenzo Forti sta assistendo le ragazze aggredite durante questa difficile situazione. L'aggressione ha scosso la comunità di Marsala, lasciando tutti i sgomenti di fronte alla violenza perpetrata da ragazze così giovani. Grazie. 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 Grazie.